Nadir Garibizzo era balzato alle cronache nel 2001 per aver ucciso l'amante Ornerla Marcenaro. L'omicidio era avvenuto nello studio medico di Garibizzo in via Bonfante. L'omicidio aveva chiuso il cadavere in un baule facendosi aiutare da un parente inconsapevole, convinto che nel baule vi fossero soltanto dei libri. Lo aveva caricato in auto. Garibizzo aveva quindi gettato il cadavere della donna in un casolare abbandonato fra Aurigo e Poggialto, ma era stato fermato poco distante dai carabinieri nell'intento di incendiare dei documenti. I militari convinti di aver finalmente acciuffato il responsabile di uno dei tanti incendi che affliggono il nostro entroterra lo avevano arrestato con l'accusa di incendio doloso. Pochi giorni dopo aveva raccontato la verità al suo avvocato Bruno Santini che lo aveva convinto a confessare. Nadir Garibizzo aveva accompagnato l'allora procuratore Bruno Novella in giro per la Valle Impero a recuperare il cadavere e tutti gli oggetti legati al delitto che aveva disseminato da Cesio a Pieve di Teco. Per quel delitto Nadir Garibizzo era stato radiato dall'ordine dei medici e condannato in primo grado a 15 anni, ridotti a 12 in appello, ma era tornato libero dopo solo 10 anni nel 2011, beneficiando della buona condotta e dell'indulto. Negli ultimi tempi Nadir Garibizzo aveva avviato una serie infinita di cause civili ed era arrivata a fare esposti anche contro giudici e avvocati. L'episodio con la vista protagonista ieri si lega proprio a quest'ultima serie di vicende. Garibizzo voleva probabilmente punire per motivi noti soltanto a lui l'avvocatessa Elena Pezzetta, rivendicandosi sul figlio. Ora la Pezzetta è rappresentata dalla collega Cati alla Corte e gli investigatori devono ancora fare luce su quello che è accaduto e su quello che avrebbe potuto ancora peggio accadere. Grazie a tutti.